Sono Daniele Biacchesi, giornalista e scrittore. Se avete a cuore il benessere fisico, emotivo, culturale e lavorativo delle persone con disabilità, contribuite per la realizzazione della prima residenza sociosanitaria per disabili nel suo genere, grazie alla RSD Sorriso Onlus. È un gesto d'amore verso chi spera di vivere una vita dignitosa. Per noi è un impegno costante. Per saperne di più e fare una contribuzione volontaria collegatevi al sito www.rsdisorriso.org alla voce donazioni.